Marco Vaio. Direttore sportivo di Bologna. Intervenuto nella conferenza stampa presentazione Fabian. Centrocampista che è arrivato in estate dall'Inter Giovanni semplice da presentare. Forse il miglior centrocampista della Serie B dell'anno scorso. Abbiamo cercato prima dell'accordo per l'Udinese. Poi ci siamo inseriti ricollegando il discorso L-Inter e con l'agente non appena la negoziazione. L'Udinese ha saltato le sue parole qui sua carriera. L-Inter in due anni ha l'opportunità di riportare il ragazzo ai nerazzurri alla stessa cifra che era. Stata concordato con l'Udinese. Abbiamo ripreso quell'operazione.